Scrivere tutto il codice di un progetto direttamente nel main sarebbe letteralmente pura follia. Intanto il codice numero di righe diventerebbe ingestibile. Un conto è ragionare, cercare errori, fare modifiche, migliorare 10 righe di codice. Un conto 1000, 10.000 o milioni di righe di codice. E uno dei principali vantaggi delle funzioni è proprio quello di suddividere il codice in tante porzioncine, mattoncine elementari, così che di volta in volta il programmatore potrà concentrarsi su quelle 10, 20, 30, 50 righe di codice. Non solo, questi mattoncini impareremo a individuarli in modo tale che siano riutilizzabili in tante situazioni diverse. Una volta che ci saremo scritto una funzione, non so, per calcolare la radice cubica di un numero, non ci dovremo più preoccupare di quel problema, ma andremo a riacchiappare quella funzione, magari ordinatamente memorizzata in una libreria, un po' come facciamo con la Iostream, che ci permette di utilizzare l'input, l'output, un po' come il CMEF, che ci consente poi di utilizzare una marea di funzioni, guarda caso, di matematica, come la SQRT, che sicuramente conoscete, ma anche altre, o String, con tutte le funzioni per fare operazioni sulle stringhe. Beh, anche i nostri comandi, le nostre funzioni, le potremo organizzare in librerie da richiamare con l'include quando serve. Che forma ha la funzione? Lo sapete già, main è una funzione. La principale, non a caso, è stata chiamata così. Significa, fai partire il programma dalla prima istruzione di questa funzione speciale main. Basta allora sezionare la struttura del main per sapere esattamente quale potrà essere la struttura di una funzione. Abbiamo innanzitutto la specifica di un tipo, int, proprio come per le variabili, naturalmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il main termina, restituirà un valore numerico intero a chi? Beh, in questo caso al sistema operativo. Se è da Windows, sarà l'ambiente di esecuzione di Windows a vedersi restituire quello che viene specificato nel comando return, cioè restituisci. E poi un'espressione che ha significato per il main di un codice numerico di errore. Se restituiamo a Windows o a Mac OS o a Linux, 0 significa, quando il programma termina, che è terminato correttamente. È una convenzione. Potremmo poi inventarci noi che 1 significa che il programma ha fallito per questo motivo, 2 ha fallito per quest'altro motivo, meno 1 per quest'altro motivo, e di conseguenza faremo il ritorno di quel valore. Quindi non c'è, anzi, diciamo che c'è solo convenzione sul fatto che se restiamo 0 come codice d'errore, di solito vuol dire assenza di errore. A seguire il nome della funzione, che poi utilizzeremo nel resto del codice per richiamarla, le parentesi che ci vogliono anche se poi non c'è nulla, permetteremo di specificare, lo vediamo però un po' più avanti, una lista di argomenti, di parametri che la funzione, di valori, espressioni o variabili che la funzione riceve e che le sono necessarie e che lei non potrebbe in nessun altro modo dedurre per svolgere il suo lavoro nelle istruzioni che andremo a mettere tra le parentesi graffe. Essenziali perché dobbiamo delimitare la funzione, altrimenti non sapremmo quando fermarci. Perché l'idea è che quando si invoca una funzione, si salta letteralmente al suo codice, si esegue il suo codice e si torna indietro. O perché si incontra l'istruzione return, che potrebbe anche essere messa a metà, una condizione, ah se è così allora fermiamoci, return e si ritornerebbe a chi ha chiamato la funzione. Oppure in modo naturale, comunque incontrata la graffa di chiusura, la funzione, la sua esecuzione intendo terminerebbe. Ma noi cominceremo con la nostra prima funzione con una ancora più semplice, dove non dovremo neppure preoccuparci di indicare qual è il valore istituito, perché proprio non ci sarà un valore istituito. E invece del tipo, per indicare che la funzione non restituisce nulla, e quindi non conterrà return, e quindi terminerà semplicemente quando si incontrerà la parentesi graffa chiusa, è void. Void vuol dire io non restituisco nulla. Il nome, uno dei cavalli di battaglia per questa situazione, è una funzioncina che stampa un messaggio con una cornicetta, magari indicando anche il colore del messaggio e altri parametri che di volta in volta potremmo inventarci. Quante volte infatti nei programmi ci ritroviamo nella necessità di dover stampare un risultato, un avvertimento, un messaggio d'errore? Sembra un niente? Vi sembra inutile? Basterebbe un cout? Sì, però adesso vedrete che aggiungendo intelligenza un pochino alla volta a questa funzione non vi sembrerà poi così tanto stupida. Inizialmente la funzione riceverà soltanto il messaggio che deve stampare. Tra parentesi allora indicheremo, come se fosse la dichiarazione di una variabile, il tipo del parametro in arrivo dell'argomento, è una stringa, ed è il nostro messaggio. Attenzione, non possiamo chiamare questo parametro messaggio come la funzione perché ci sarebbe un po' di confusione, ma potremmo abbreviare in msg. Le parentesi graffe e qui le istruzioni da fare eseguire. Per il momento limitiamoci al classicissimo cout dell'msg e poi endline. Come si usa una funzione? Dal main o da un'altra funzione, non ci sarebbe alcuna differenza, si invoca la funzione, la si richiama attraverso il nome che abbiamo scelto, messaggio, e indicando obbligatoriamente, tra parentesi, gli argomenti, i parametri. Non è una lezione teorica, altrimenti vi avrei detto, quelli che mettiamo qui, quando la chiamiamo, si chiamano parametri attuali e quelli che mettiamo qua, quando la scriviamo, sono chiamati formali. E così ve l'ho detto. Qui sarebbe un errore ripetere ancora string? No, l'abbiamo già indicato nella definizione della funzione che accetta una stringa come parametro in ingresso. Qua dobbiamo mettere la stringa, o così, oppure una variabile stringa che andremo a indicare solo con il suo nome al posto di questa costante letterale. Quindi una possibile invocazione è questa, facciamone un'altra. Quello che accade è che l'espressione indicata come primo parametro e unico parametro viene valutata, siccome si tratta semplicemente di una variabile, la sua valutazione è il valore che è in quel momento. La stringa ancora ciao. Eseguendo allora vedremo comparire questo primo messaggio, ciao, e poi l'altro. Nulla di strano. Ma il meccanismo è interessante. Quando nel main si arriva all'invocazione, si abbandona il main. Come dicevo prima, è come se effettuassimo a questo punto un salto alla funzione messaggio. Ah, mi stai richiamando messaggio. Andiamo allora a messaggio. Esegua le sue istruzioni. Quando si incontra, è void, non c'è return, la parentesi grafa di chiusura, si ritorna nel punto del main dopo la chiamata di funzione. Cioè dopo, al punto e virgola, dai. E poi si prosegue con string il messaggio e via. Qua un'altra volta si abbandona il main, si ritorna ad eseguire il messaggio e così via. Insisto sul fatto che tra parentesi come parametri sono indicate dalle espressioni. Vediamo un esempio. Lampante di cosa intendo. Quella che sto scrivendo è un'espressione. Sto concatenando tre variabili stringa, come se avesse scritto per tre volte ancora ciao, ancora ciao, ancora ciao. Quello che succede è, non che ciascuna di queste variabili sia considerata un parametro 6. No, è tutta l'espressione che rappresenta il primo parametro. Viene valutata, otterremo come risultato prima di passare all'esecuzione del messaggio. Una stringa che triplica il messaggio ancora ciao, quello viene inviato come valore e copiato in MSG e poi stampato. Non ci stupisce che questo meccanismo allora di comunicazione tra chiamante e funzione chiamata sia detto di passaggio di parametri per valore. È il valore nel main che viene valutato come espressione e copiato nel parametro MSG. In questo esempio è palese che qualunque modifica dovesse fare la funzione al suo MSG non avrà ripercussioni sulle variabili che abbiamo indicato magari due o tre diverse nell'espressione nella chiamata. Quale dovrebbe aggiornare? Non ha senso. Non c'è nessuna relazione tra le variabili indicate nella definizione della funzione e quelle che si trovano nel main. Sono solo nomi. Dovranno solo corrispondersi per numero esatto previsto e il loro tipo. È un particolare fondamentale meritano approfondimento. Nel main abbiamo la variabile MSG che vale ciao prima di invocare la funzione e per la quale indicheremo proprio quella variabile come parametro. La funzione ha anche lei come nome di variabile per il suo parametro MSG. Ma quello che ho detto pochi secondi fa è che non c'è nessuna relazione tra questo MSG del main e questo MSG. Tant'è che avremmo anche potuto chiamare nella funzione intendo il parametro invece di MSG una cosa qualunque paperino e poi sotto chout paperino nessun problema. Chiaro che viene spontaneo indicare qualcosa tipo messaggio MSG. Quello che avviene è che il valore che c'è in questo momento nella variabile MSG del main e che viene veicolato indicando quella variabile come parametro attuale solo il valore arriva alla funzione messaggio e copiato in partenza nel parametro indicato. Quindi MSG riceve la copia del valore della MSG del main cioè la stringa ciao e in effetti in partenza varrebbe proprio ciao e avete visto che stamperebbe quel ciao. Ma cosa succede? se la funzione comincia a usare il suo parametro come variabile ad esempio variandone il valore beh lo può fare localmente ma qui deve essere chiaro che stiamo lavorando su una variabile diversa non stiamo cambiando il valore della variabile del main certamente rimanendo nella funzione a questo punto verrà stampato il valore che il parametro ha in quel momento e cioè sorpresa ma questo non vuol dire che la MSG del main è diventato sorpresa verifichiamolo no per fortuna la funzione non ci ha potuto fare uno sgambetto cambiandoci a tradimento sarebbe una tragedia chi si fiderebbe a chiamare funzioni se ci fosse il rischio concreto che è voluto o non voluto per erro beh per erro insomma quella va a cambiare la funzione intendo un valore importante calcolato con fatica un valore critico a disposizione del main la modalità naturale di funzionamento è quella più sicura la funzione non accede al potere di cambiare le variabili del main riceve solo una copia come se mandassimo una fotocopia dalla variabile il suo valore alla funzione la funzione può fare quello che vuole sulla fotocopia ma l'originale è al sicuro nel main direi che ci possiamo fermare vi lascio un piccolo compito scrivetevi una funzioncina che ricevendo i parametri previsti deve servire a sapere qual è il valore minimo beh Massimo fa lo stesso tra quei valori lì 4 e 2 se volete un briciolino un po' di sfida in più 3 valori passate come parametro qui non potrà essere void il tipo restituito perché in effetti ci serve un valore da usare poi nel main restituito dalla funzione la funzione restituirà l'abbiamo visto prima il valore con un return con l'espressione del tipo previsto a risentirci grazie a tutti